I risultati si sono visti, chiaramente possono esserci anche altri gruppi, però si è partiti, questa è una cosa importante, l'arresto di uno degli autori, possono anche essere più autori in campo, però è un inizio del lavoro. Noi abbiamo un osservatorio criminalità che rileva gli atti criminali nei confronti delle attività commerciali, negli ultimi due anni abbiamo assistito a un calo importante di eventi criminali, dal 2001 era in crescita, crescita costante e annuale, ma questo calo di eventi criminali non ha corrisposto a un calo della sensazione di sicurezza o insicurezza. I motivi sono tanti dovuti anche alla tipologia della nuova criminalità, è una criminalità diffusa sul territorio che tocca un po' tutti. In particolare in questo caso avevamo più danni, se vuoi, perché una vetrata purtroppo costa migliaia di euro, magari il fondo cassa 50 euro, 100, 300, ecco questa era un po' la fotografia. La preoccupazione c'era, però c'è stata anche una grande risposta delle forze dell'ordine, una grande risposta della città.